Approvato il bando per i fondi da destinare alla progettazione sociale in Abruzzo, Carla Pansino, oltre 300.000 euro. Una piccola cifra che abbiamo recuperato quando, dopo due anni di vicepresidenza nel COGE Abruzzo, come presidente dal 2014, abbiamo rintracciato nel 2015 dei fondi giacenti in alcune fondazioni italiane, parlo di quelle abruzzesi, oltre modo anche quelle, la Cariplo, la Carige, e abbiamo visto che c'erano in accantonamento questi fondi per la progettazione sociale Abruzzo. Li abbiamo recuperati e ringraziando anche le fondazioni che prontamente hanno risposto, siamo riusciti a recuperare circa 320.000 euro, non una cifra importante come la precedente, ma sicuramente di aiuto e sostegno per il volontariato abruzzese. I fondi sono indirizzati a progetti per il cratere sismico riconosciuti dalla regione, quindi parlo della provincia di Pescara, di Teramo e dell'Aquila. Tutte le associazioni abruzzesi possono partecipare a questo bando, abbiamo tranche da 20.000 a 50.000 euro, si può partecipare anche in rete, chiaramente chi partecipa per un progetto non può partecipare per un altro, l'importante è che Capofila sia sempre uno di via abruzzese. Ci si può comunque appoggiare anche ad altre organizzazioni di volontariato, ad altre associazioni, anzi c'è una premialità perché il punteggio sarà più alto quando si lavora in rete, dando modo a tutti di partecipare a progetti importanti di sicuro sostegno per una zona così colpita, così grande, colpita dai terremoti degli ultimi anni. Quindi voglio pensare anche alla provincia di Teramo che ha subito tanti tanti danni, l'Aquila e anche la provincia di Pescara. Quindi abbiamo voluto indirizzare questi fondi proprio alle necessità più urgenti che ci sono nella nostra regione.